Pacchettoni di esami e pre-ricovero, o meglio esami di idoneità e esami pre-operatori. Che cosa sono e a cosa servono? Oggi facciamo chiarezza. Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa ho trovato il coraggio di affidarmi alla chirurgia bariatrica. Grazie alla sleeve ho battuto obesità, diabete, ipertensione, apnea notturna, steatosi ipatica e un sacco di altri problemi che non sapevo neanche di avere. Da allora racconto il mio percorso in questi video per aiutare altri a trovare la loro strada per sconfiggere l'obesità. Se vuoi supportare questo mio progetto, iscriviti al canale, lascia i like, lascia i tuoi commenti, ma soprattutto condividi questi video su tutti i tuoi canali social. Si sente spesso parlare di pacchettone e di pre-ricovero, ma anche di prima visita col chirurgo. Vediamo un attimino che cos'è. Hai deciso che è il momento di iniziare il tuo percorso verso la chirurgia dell'obesità o comunque verso una soluzione per il tuo problema di obesità? Ti rivolgi al tuo medico di base. Lui ti fa l'impegnativa con la quale puoi prenotare la prima visita chirurgica. Ti presenti quindi al chirurgo bariatrico che ti fa una visita, un'anamnesi, quindi una chiacchierata per capire qual è la tua storia clinica, che cosa hai avuto, malattie, non malattie, altri interventi, eccetera, eccetera, prima di arrivare alla sleeve e successivamente ti mette in lista per tutti quegli esami che sono il pacchettone, così come viene chiamato, ovvero gli esami per valutare la tua idoneità alla chirurgia bariatrica e a quale tipo di intervento, perché non siamo tutti uguali e non è detto che tutti abbiamo gli stessi benefici degli stessi interventi. Ogni intervento ha dei pro e dei contro e va scelto in base al singolo paziente. Ma all'atto pratico in cosa consistono questi esami del pacchettone? Esame del sangue, polisonografia più visita dall'opneomologo, gastroscopia, ecografia addome, valutazione cardiologica, un elettrocardiogramma, una valutazione psicologica, che è un colloquio, una valutazione nutrizionale, che è un altro colloquio. Questi esami aiutano tantissimo l'equip a inquadrare il paziente e capire se è idoneo o meno a un intervento di chirurgia dell'obesità e a quale esattamente. Per esempio, nel mio caso, sono emersi dei problemi che neanche sapevo di avere. Gli esami del sangue hanno valutato il mio stato di salute generale e hanno confermato il mio stato di diabetico. La polisonografia mi ha fatto scoprire di soffrire di apnee notturne, di aver bisogno di dormire con la C-PAP e di aver diritto ad un'invalidità addirittura. La gastroscopia ha evidenziato la mia esofagite moderata che ha spinto il chirurgo a scegliere una sleeve modificata perché mi aiutava a risolvere anche i problemi di reflusso che non mi rendevo conto di avere. L'ecografia addome ha scoperto l'ovvio, cioè la steatosi epatica, che è la prima cosa che capita quando si inizia a aumentare troppo di peso. Il famoso fegato grasso è proprio la primissima cosa che succede quando il sovrappeso aumenta troppo e può avere delle conseguenze anche molto, molto gravi. L'elettrocardiogramma ha confermato che sono iperteso e alla fine la valutazione psicologica e la valutazione del nutrizionista hanno fatto sì che mi inquadrassero anche dal punto di vista di come avrei potuto affrontare il pre e il post intervento e come avrei potuto affrontare le limitazioni che dopo sarebbero state necessarie nel tipo di alimentazione, soprattutto nei primi due mesi. Tutti questi esami li ho fatti fondamentalmente in due mattine che ho passato al Policlinico San Marco a Zingonia. È stata una cosa organizzata completamente da loro, le ho fatte tutte molto in fretta, una dietro l'altra e ho avuto poi l'esito di tutti questi esami in tempi abbastanza brevi. Dopo il pacchettone eventualmente potrebbe essere necessario fare degli approfondimenti. Per esempio nel mio caso, vista l'esofagite, mi è stata chiesta di fare una manometria esofagea proprio per arrivare alla fine a decidere sleeve o sleeve modificata. Ovviamente tutti questi esami del pacchettone di idoneità devono essere fatti non troppo distanti dall'intervento perché se io faccio tutti questi esami e poi aspetto un anno a fare l'intervento chirurgico può essere che qualche mia condizione cambi nel tempo. Quindi di solito questi esami vanno fatti non oltre i 4-6 mesi prima dell'intervento perché se no potrebbero aver visto delle cose che sono cambiate. Quindi tipicamente uno si può anche fare due conti per capire che rispetto agli esami di idoneità di solito entro 4-6 mesi si dovrebbero essere operati. È possibile anche che dopo gli esami di idoneità emerga la necessità di fare qualche altro accertamento. Nel mio caso per esempio mi è stato chiesto di fare la manometria esofagea per arrivare con certezza matematica a definire che fosse meglio fare la sleeve modificata rispetto alla sleeve tradizionale. Gli esami preoperatori o pre-ricovero sono fatti tipicamente a ridosso dell'intervento. Comprendono rifare gli esami nel sangue, rifare l'elettiocardiogramma, fare una radiografia del torace completo, fare il colloquio col chirurgo, fare il colloquio con l'anestesista che spiegano come viene fatto tutto l'intervento e fanno firmare il consenso informato dove praticamente ci spiegano tutto quello che potrebbe non andare bene nell'intervento e ci fanno andare via con tutte le informazioni necessarie per valutare fino in fondo di voler fare questo intervento o di preferire di non farlo. Serve a valutare i pro e i contro. Ovviamente i pro sono schiaccianti rispetto ai contro, però è giusto conoscere anche i contro. Il pre-ricovero di solito dura una mezza giornata, non ci sono tantissimi esami, quelli che ci sono sono abbastanza rapidi. Nel mio caso ho fatto anche la manometria esofagea contestualmente al pre-ricovero. A questo punto si attende l'intervento vero e proprio. Come vi dicevo nel mio caso è stato due giorni dopo il pre-ricovero. Dopo l'intervento ci sono le visite di follow-up. Tipicamente a un mese ci si presenta con gli esami del sangue, la visita dal chirurgo e la visita dalla dietista. A che cosa servono? Gli esami del sangue servono a vedere come sta reagendo il nostro corpo alla modifica di alimentazione e all'intervento. E se ci sono delle carenze di vitamina o se c'è bisogno di integrare qualcosa, si interviene prescrivendo quello che può servire per rimettere a posto gli esami del sangue. Il chirurgo valuta com'è il decorso post-operatorio delle ferite e di tutto quello che riguarda la parte prettamente chirurgica e la dietista ci aiuta a vedere come stiamo reagendo alla nuova alimentazione. Può dare dei consigli, dei suggerimenti. Questi follow-up continuano poi nel tempo. Un mese, tre mesi, sei mesi, nove mesi, un anno e avanti a seconda poi della struttura dove ci si trova. Sono molto importanti. In alcuni casi si inserisce anche il follow-up psicologico a seconda che il paziente possa o meno averne bisogno o richiederlo. Io per esempio l'ho richiesto a un anno dall'intervento, ho fatto due incontri con la psicologa e mi hanno aiutato veramente tantissimo. Io in quei due incontri ho messo a fuoco e risolto tante di quelle cose che avevo col cibo che non potete neanche immaginarlo, o meglio potete immaginarlo se andate a vedere i video dove ne parlo, perché li ho fatti apposta. Ricordatevi che ci sono anche gli incontri del diario della mia Sleaf Gastrecomi. Tipicamente cerco di farne uno al mese. Qui sotto trovate il modulo da compilare per ricevere le informazioni dei vari incontri che ci saranno. E il prossimo sarà sabato 27 aprile in Valcamonica. Sempre qui sotto maggiori dettagli. Iscrivetevi per ricevere le informazioni di modo che man mano che si organizza qualcosa magari vicino a dove abitate voi, sarete avvisati. Se il video ti è piaciuto lascia un like e condividilo su tutti i tuoi canali social. Se i miei contenuti per te sono importanti lasciami un super like e abbonati al canale così mi puoi sostenere anche economicamente. Qui alla vostra destra e a mia sinistra trovate degli altri video sul tema dell'obesità mentre qui sotto trovate dei video relativi ai viaggi in moto che io la farà facciamo e a un altro canale che parla di tutto tranne che di obesità e di moto. Grazie a tutti, ciao al prossimo video.